Qual è la strada che a questo punto è consigliabile che intraprenda l'Unione Europea? La strada della ripresa, del dialogo e della cooperazione con la Russia. Che è sostenuta, lo diciamo, soprattutto da Germania e Italia. Sì, l'Italia e la Germania sostengono questa strada, ma non solo e non tanto perché abbiamo interessi economici assolutamente legittimi nei confronti della Russia, in termini di investimenti delle industrie italiane e in termini di rifornimenti di gas da parte della Russia. Ma per il fatto che questa crisi non ha nessuna ragione di svilupparsi, perché non c'è un motivo forte di contrasto nel lungo periodo strategico con la Russia. Non c'è alcuna incompatibilità. Quindi dobbiamo fermare questi venti di guerra, quello che io chiamo il partito della guerra. Vedi, io questa storia l'avevo prevista cinque anni fa, quando ho scritto questo libro che si chiama L'inganno e la paura, che è basato proprio sulle crisi internazionali e su come la fabbrica della paura e della guerra sia creata dagli interessi molto forti. Io individuavo il partito della guerra come chi produce le armi e chi è un nemico della pace e poi chi campa sulla paura, e quindi anche i media internazionali che in questa crisi stanno giocando un ruolo molto negativo, perché stanno drammatizzando, catastrofizzando una crisi, creando un nemico che ripeto non ci dovrebbe essere. Si riferisce alla Russia? Mi riferisco alla Russia. Contro paradossalmente il partito del business, il partito dell'economia e contro anche la tecnocrazia. L'Europa viene accusata di essere un'Europa dei tecnocrati, viene accusata di essere un'Europa insensibile e così via, ma in questo caso è un altro tipo di interesse che sta provocando questa crisi, questo partito della guerra, come lo chiamo io, che dobbiamo fermare assolutamente proprio perché non ne abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di cooperazione con paesi che non ci hanno fatto nulla, che non ci hanno aggredito, che non ci minacciano e che non ci minacceranno e abbiamo bisogno di rafforzare questo tessuto di cooperazione economica, culturale e politica con un pezzo di Europa, che è la Russia.